La legge sulla cittadinanza che è attualmente in vigore è un muro da battere, abbiamo bisogno di una riforma della cittadinanza che faccia una vera fotografia dell'esistente. L'Italia ormai è un paese plurale, multietnico, multireligioso con anche una gamma di esperienze diversissime, era già un paese di campanili, in più adesso è diventato anche un paese di migranti, figli di migranti, quindi siamo belli mescolati e non dobbiamo avere paura di questo, dobbiamo soltanto legiferare bene e dare i diritti che spettano alle persone, con i diritti chiaramente poi dai anche tanti doveri, non possiamo far vivere i figli di migranti come stranieri nella propria nazione perché, lo dico io perché sono andata a Roma, noi siamo italiani, siamo abbiamo anche un qualcosina anche di più, abbiamo un altrove che è l'altrove dei nostri genitori, questa cosa è solo semplicemente le origini, le radici che si mescolano alle radici italiane, quindi basta con la pomerola in coppa e un po' di couscous, possiamo andare avanti per un'Italia più bella, più libera, più gioiosa perché abbiamo bisogno di gioia.